Eccoci di nuovo tornati in onda con Ore 7, la terza parte dedicata all'ospita, al tema del giorno. L'avete sentito anche prima Marco Virgilio che diceva quanto ci sia un clima abbastanza caldo per questa stagione con un zero termico che arriva a 1300-1400 metri, insomma sembra non essere più abituati a quelle fredde stagioni. In questo periodo in cui tutti si andava in montagna appunto a sciare, si va ovviamente tuttora ma magari il cambiamento climatico impone altri tipi di scelte e oggi ne parleremo con il responsabile montagna di Promo Turismo FWG Enzo Sima, grazie per essere venuto a trovarci in trasmissione. Grazie a voi e buongiorno. Ed è anche un modo per poter, io inizierei proprio da questo dato, per poter dare dei consigli appunto a chi si approccia ad andare in montagna a sciare perché bisogna sempre avere le accortezze insomma in questo caso. Diamo prima di tutto un po' di consigli alla gente. Beh, partiamo da quello che è la situazione attuale, cioè tutte le piste nevate ma con il fuoripista, dicevi prima le margherite, poco ci manca quindi una situazione anomala in questo senso che però dal punto di vista della sicurezza comporta la necessità di un'attenzione particolare a moderare le velocità. Quindi questo è il primo consiglio. Tra l'altro è quasi paradossale ma la mancanza di neve naturale porta a una qualità delle piste molto buona nel senso che la neve prodotta artificialmente è un manto compatto e quindi tendenzialmente lo scettore è portato ad aumentare la velocità, cosa che invece dovrebbe essere sicuramente il contrario perché per i presupposti della sicurezza di cui ho parlato un attimo fa. Infortuni ce ne sono state sulle sci, immaginiamo insomma che ce ne sono quanti più o meno al giorno? Quanti al giorno è un dato difficile da dire. Diciamo che la media nazionale è di 1,2 incidenti ogni mille sciatori, quindi dipende dal numero degli sciatori. Quindi fortunatamente, non solo fortunatamente, c'è un'attenta prevenzione sulle nostre piste in Friuli Venezia Giulia, la media regionale è ben più bassa con un 0,9 che significa in realtà un quarto di meno gli incidenti della media nazionale che è sinonimo di una prevenzione fatta bene direi. Ecco però bisogna stare attenti, secondo me quando si scia anche ad alimentarsi bene, a bere consapevole magari dirò una stupidaggine, ma soprattutto nel momento in cui c'è la classica pausa pranzo, no? Perché magari si scia, si arriva lì prima del mattino, poi si continua a sciare nel pomeriggio magari non si fa attenzione diciamo a quello che si mangia e si beve durante il pranzo. Non so se c'è una correlazione giusta tra infortuni e... No, c'è un'assoluta correlazione, le fasce orarie dove avvengono più incidenti sono quelle immediatamente successive al pranzo e quelle dell'ultima parte della giornata, il che significa nel primo caso una correlazione con la pesantezza del mangiare o del bere addirittura. Cioè c'è gente che beva un pochettino di troppo? Assolutamente sì, ci sono anche dei riscontri per incidenti più grossi, una volta portati all'ospedale gli utenti che hanno subito infortuni, spesso succede che venga riscontrato alcolo nel sangue, quindi la correlazione è assoluta. Questo accade più che in passato? Non ci sono dati così precisi per il passato, sicuramente avviene nel presente e sicuramente ci sono situazioni che sono arrivate al limite del poco tollerabile, leggevo l'altro giorno che in una stazione in Austria il direttore di stazione addirittura ha segnato le dimissioni perché il numero talmente elevato di persone che utilizzano le piste in condizioni di non stato psicologico, diciamo psicofisico adeguato proprio a causa dell'alcol, soprattutto lì dove ci sono molti locali in quota, quindi è un elemento importante. Stiamo attenti anche qua in Friuli, in Venezia e Giulia, bisogna prestare l'attenzione non solo dei sciatori ma anche chi va fuori pista, scialpinismo, adesso faccio magari anche un altro parentesi, insomma. Sì, chiudo l'ultima fascia della giornata che è quella a rischio perché la gente è più stanca e perché le piste ovviamente sono più degradate, quindi attenzione a non andare oltre le capacità fisiche se magari non si è allenati perché l'altro momento dove c'è l'allarme rosso è proprio nella fase finale della giornata. Parola del sciapinismo, sì, è un altro fenomeno, un grande crescita, ma proprio in situazioni come quelle attuali dove neve sulla montagna non ce n'è, quindi c'è solo quella prodotta sulle piste, l'utilizzo delle piste del partito dei sciapinisti è effettuato in maniera non regolare, cioè illegale per certi versi o per tutti i versi, nel senso che il transito sulle piste aperte e chiuse è vietato in salita, anzi quando è chiuso è proprio chiuso. Danciamo un messaggio ai nostri trasportatori che vuole andare in montagna di non improvvisarsi anche. Ma al di là di improvvisarsi è proprio la sottovalutazione di un rischio che è elevatissimo che è quello di trovare fuori dell'orario di apertura anche nel primo ore del mattino i mezzi battipista in azione, specialmente, ripeto, in un anno come questo dove la produzione neve viene attuata ogni volta che è possibile, con il rischio, molte volte i mezzi battipista lavorano con i vericelli, con delle funi per migliorare la risalita e che di notte specialmente non si vedono e che basta un attimo per poter essere gravemente feriti, se non peggio perché è una fune d'acciaio che se presa in pieno da uno sciatore può portare come ha portato in altre regioni, fortunatamente non abbiamo ancora avuto questo tipo di incidente, ha episodi con la conseguenza mortale. Bisogna prestare le dovute attenzioni e precauzioni come abbiamo detto fin dall'inizio di questa parte di ore 7 dove abbiamo qui vicino a noi in Sossima, il responsabile di montagna di promotorismo FWG, al quale chiedo anche un po' come sta andando la stagione in generale, comunque con un afflusso di turisti che non sembra mancare. I dati aggiornati alla data di ieri vedono una percentuale in crescita rispetto all'anno scorso e due anni fa, che ricordo erano già state stagioni molto buone anche per la presenza di neve naturale. Questo è dovuto al fatto che abbiamo degli ottimi impianti o perché abbiamo un'ottima promozione magari anche rivolta all'estero, che cosa percepisce? Qual è l'acciaio del successo? I risultati positivi sono sempre il frutto di un mix, sicuramente c'è stato un aumento nella promozione soprattutto alle zone limitrofe, mi riferisco all'Austria, alla Slovenia e al Veneto, partendo dalla mettere in ben evidenza che soprattutto per i biglietti legati alle famiglie o comunque i biglietti in assoluto, lo ski pass, i prezzi sono decisamente concorrenziali rispetto alle località limitrofe e riconosciuta la qualità delle piste, a cui accennavo prima e la sicurezza delle piste, che sta diventando un elemento che prima, una volta nel passato diciamo fino a 10-15 anni fa non era valutato, ma in effetti adesso l'attenzione dell'utente è anche verso questo aspetto che di fatto è importante. Quindi credo che questo mix tra, anche tra l'altro, belle giornate perché non ha nevicato ma il tempo è stato sempre fondamentalmente molto bello, peraltro al cielo bellissimo sui montagni magari rispetto a quello smog che si respira in città o la neve, altro dato che sicuramente aiuta, la gente va a cercare su in quota insomma al bel tempo, sicuramente anche perché si è creato un fenomeno quest'anno, quello dell'inversione termica che tra l'altro comporta altre situazioni, classica quella della nebbia in pianura con il sole splendente in montagna, infatti basta guardare le nostre webcam sul nostro sito e uno se ne rende conto che non è un fotomontaggio ma che in realtà mentre sotto si vede a stento in montagna si può pure montare. E questo magari favoresce, vedendo magari le webcam uno dice guarda che bello. Ma questo è un dato sicuramente, sono fatto uno sforzo due anni fa per installare le webcam di alto livello e i risultati sono sicuramente quello di avere un alto numero di ingressi di visitatori quotidiano ma sicuramente è correlato con il fatto che uno decida nonostante fuori non si veda di prendere e partire e fare la giornata o il pomeriggio in montagna. E poi mi immagino che anche i grandi eventi possono avere creato dell'attenzione in Friuli, Venezia e Giulia, mi viene da pensare ma non so se ci sono altri tipi di progetti in futuro anche per quanto riguarda lo snowboard della Coppa del Mondo che è stata recentemente qui a Piancavallo. Sì, i grandi eventi sono considerati dalla regione un vero e proprio strumento di promozione turistica, quest'anno sono molti gli eventi in Friuli. Anche magari cerchiamo di ribadirle insomma. Sì, il più importante anche tecnicamente parlando è stata la Coppa del Mondo di fine gennaio a Piancavallo, ma si prosegue proprio questa settimana con la Coppa Europa di sci alpino, le discipline veloci di Senna Nevea. A fine stagione ci saranno i campionati italiani Children allo Zuncolamper, allo sci alpino e a Tardisio per il fondo. C'è stato il trofeo Biberon che ormai è una gara tradizionale a Forni che è in linea anche con quello che è il target della località. E si è appena concluso in questo ultimo weekend da una gara di Coppa Europa, anzi una tre giorni di Coppa Europa di fondo, che tra l'altro ha visto la vittoria tre gare su tre del nostro Sappadino Graz. Spendiamo anche delle buone parole per Sappada. Non l'ho detto a caso, ho detto perché Sappada è a tutti gli effetti. Sappada è entrata in Friuli e mezza Giulia. Friuli è sempre stata considerata a tutti gli effetti come terra di campioni friulana. Questo nuovo atleta, questo ragazzo, non fa altro che direi emulare la gesta di precedenti atleti ben più famosi a Sappada, in particolare Pietro Pilar Conte e Silvio Fauner. Esattamente, ma anche Sappada come comprensorio comunque può dare un... Sì, Sappada secondo me è un valore aggiunto alla montagna friulana, anche per un target ben definito, anche per un'offerta estiva molto interessante, una tradizione popolare, una cultura della montagna che rappresenta, ripeto, un'ulteriore possibilità del panorama proposto per la nostra montagna. Certo è che, parlavo all'inizio e parlavamo prima appunto con queste margherite che poco ci manca, che arrivano già nella stagione invernale in montagna, ne parlavamo anche prima con Marco Virgilio, con le previsioni del tempo, tutto questo innalzamento termico fa ripensare, questi cambiamenti climatici fanno un po' ripensare alla montagna, che deve essere vissuta 365 giorni all'anno, insomma non solo dell'inverno, forse d'estate ancora di più a questo punto. In effetti, proprio di recente è stato presentato da Promoturismo un progetto che si chiama Montagna 365 e che oltre a prevedere un piano di investimenti, di potenziamento e miglioramento degli impianti per i prossimi 4 anni, prevede una serie di strategie, come iniziare da quelle di marketing, sulla montagna, uno degli elementi fondamentali, una maggiore attenzione anche in termini di investimenti alla parte estiva, che di fatto rappresenta già una quota molto importante della totalità delle presenze nella montagna. E quindi se è vero che il cambiamento climatologico sta portando anche a delle problematiche di gestione della neve in particolare, è nel contempo anche una notevole opportunità perché proprio per le alte temperature che in tutto l'anno si riscontrano, in particolare d'estate, in pianura, la montagna diventa un'opportunità per chi vuole anche a pochi passi di ossigeno e di temperature più affrontabili e più piacevoli. Quindi sì, in estrema sintesi, il progetto montagna tra i 65, prevede anche un'attenzione, l'evoluzione del clima e quindi tenendo in considerazione quello che sta succedendo. Bene, io ringrazio Enzo Sima per essere venuto a trovarci, responsabile montagna di promozionismo del FUG e grazie, bocca al lupo per il lavoro che state svolgendo. Grazie per l'invito e magari ci vediamo sulle piste. Devo imparare a sciare. Magari me lo farai. Anche questa è un'opportunità. Grazie, ci vediamo per l'ultima parte delle sette tra pochi minuti.